bentornati bentornati sul canale mi scuso per l'audio del video del video precedente mi sono reso conto troppo tardi che era un audio sballato ogni qual volta purtroppo vado magari ospite e mi connetto con un'altra piattaforma non so per quale motivo si abbassa l'audio e poi di solito quando registro sempre il livello sotto controllo stavolta mi è sfuggito e mi sono reso conto che in effetti era abbastanza antipatica come cosa molto antipatica e quindi mi scuso perché è un disservizio a tutti gli effetti non volendo fare come Dazon che taglia di qui e di lì nel frattempo in contemporanea aumenta di un 20 per cento circa gli abbonamenti allora è corretto chiedere scusa quando si sbaglia perché c'è la sostanza ma c'è pure la forma da rispettare e un audio che ti arriva in maniera soffusa non è simpatico e si chiede un esercizio di uno sforzo più che altro acustico a chi invece dovrebbe eseguire con la massima tranquillità senza doversi stare a lambiccare il cervello e od i timpani veniamo alle cose nostre volevo parlare di Romelu Lukaku perché oggi stiamo assistendo proprio nella giornata di oggi no oggi nel senso di questo periodo stiamo assistendo a una a delle secondo me un processo il solito processo alle intenzioni in particolare del del tifo una parte del tifo dell'inter a cosa mi riferisco mi riferisco all'estremo come posso dire anche quei esercizi all'estremo esercizio auto lesionistico che si sta procurando una parte del tifo dell'inter a perché perché si è parlato di un milano molto forte su sirkze e ecco con tutto il rispetto io a me sirkze piace tantissimo tecnica sopraffina è pur vero che di fatto a livelli alti alti con tutto il potenziale che possiamo riconoscergli ha giocato sei mesi e e perché lo dico perché io ricordo tanti giocatori osannati per sei mesi e poi rivelatisi non con le aspettative non così rispettate tantissimi dell'Atalanta stefan dal ma che pure poi rimasto a livelli accettabili ma non a quei primi sei mesi che fece con tardelli all'inter ebbene sì dal ma per quei sei mesi lì un giocatore stratosferico incredibile per chi non se lo ricorda piontek pum 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 ce lo ricordiamo no il nuovo mixtra van bastan e caca e potrei andare qui a sesso vlaovic che secondo me è fortissimo non ha rispettato le quelle che erano le aspettative quindi dico solo calma il milan secondo me dal loro punto di vista dal suo punto di vista fa bene appuntarci perché senza girù io vi ce lo sappiamo e budget discreto 40 milioni di clausola evidentemente devo dire che magari stando al milan ci ci punterei anche io anche perché parliamoci chiaro il milan è una condizione in cui veramente l'obiettivo è entrare in champions league non come la juventus millantata per 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 tutta una stagione questo milan con fonseca con giocatori che devono ancora esplodere ci sta che possa puntare la sirkese e il margine di di errore è più limitato per chi rispetto a chi invece e beh all'obbligo di di puntare allo scudetto non l'obbligo di vincere chiaramente però l'obbligo di puntare e lì magari one shot non devi fallire un po' come l'anno scorso l'inter con tu ram tu ram era molto più maturo rispetto al sirkese aveva alle spalle molta più esperienza anche dell'internazionale era già nazionale francese però tutti gli effetti sarebbe stata una una scommessa e nel frattempo addirittura qualcuno parla di sirkese più lukaku in presto ora ha parlato lukaku ha parlato lukaku e come al solito non ha mancato di creare quel quel briciolo di polemica gratuita ne anche poi nei suoi confronti cosa ha detto lukaku che ha parlato l'intervista in in belgio un quotidiano belga et lasse noise così dovrebbe pronunciarsi fiammingo ancora siamo un po carenti ammetto ignoranza un momento davvero intenso rispetto a detto rispetto a quando era stato vicino all'arabbia saudita l'anno scorso momento davvero intenso per due giorni fila ho pensato ci vado non ci vado ci vado non ci vado e poi in tanti campioni no sono andati dopo il suo rifiuto il livello non potrà che aumentare dice il cambio rispetto al campionato saudino le infrastrutture devono essere migliorate ma i top club europei lo sanno sanno bene che l'arabbia sta arrivando si vede già nel pugilato nel golf nella formula u nella formula 1 vabbè se si vede nel pugilato nel golf nella formula 1 sicuramente la rabbia arriverà ragazzi non credo ne abbiamo viste tante negli stati uniti hanno bombardato per anni anche nei film nelle fiction queste camere dei ragazzi e teenager con i palloni da calcio quando invece se lo fila nessuno e magari poteri trovarci la la mazza baseball il pallone da football americano ma le lampade no a forma di pallone da calcio il calcio per le donne per le ragazze hanno provato a innestare non attecchito è inutile che ci già non attecchito è secondo me più o meno la stessa fine ha fatto in cina anche per motivi diversi se vogliamo non credo che in arabia si andrà così lontano e ricordo anche quella con quella cometa quella meteora più che come la meteora russa no ricordate tutti quanti in russia eccetera eccetera poi lukaku conferma anche la volontà e la certezza anzi che prima della fine della carriera tornerà all'underlecht molto prima di quanto molti pensino e riguardo al futuro dice ho già capito cosa succederà a molti piace parlare forse perché non ho un agente ufficiale ma deciderò io vorrei se uno c'ha l'agente decide lui fondamentalmente silenzio assenso o comunque decidi ogni volta che ho deciso di rimanere o di andarmene si è rivelata la scelta giusta a causa di alcuni fattori ad esempio il rapporto con l'allenatore se non funziona più perché stare insieme e poi alla risposta al migliore allenatore con cui ha lavorato chiaramente molto prevedibile ma è una mezza autocritica un po si sta un po gasperinizzando lukaku ma è un una piccola autocritica mai un dire anche io potevo avere potuto fare meglio avrei potuto gestire meglio questo avrei potuto gestire meglio quell'altro questa sempre sorta di mettersi sul piedistallo e stare lì comunque a giudicare il lavoro degli altri a dire io ho fatto tutto quello che doveva essere fatto e voi avete sbagliato io non ho dubbi che la storia tra lukaku e l'inter non sia così lineare come in tanti da racconta non ce l'avevo un anno fa più o meno di questi tempi ancora no però un anno e qualche giorno fa diciamo così ho continuato a avere questa mia idea anche dopo tutti i racconti fatti non ci vedo una linea netta in cui c'è qualcuno che ha sbagliato e qualcuno che invece ha fatto tutto bene ma le proporzioni sono e sono sbilanciate sicuramente non è 100 a 0 come la racconta lui e questo da me denota immaturità e secondo me se tu non impari dagli errori sei condannato a commetterne di altri magari differenti ma ne commetti di altri alla fine paghi tu perché lui dice sempre andata bene non è esattamente così non è andata sempre bene almeno per quanto riguarda la carriera basti pensare a sul sul rapporto con l'allenatore ora tutto possiamo dire in zaghi tranne che non sia uno corretto quei giocatori o piacere non piacere il sostegno del gioco c'è chi parla di difesa e è tatticismo chi dice che è troppo morbido è ancora troppo uno è più giocatore che allenatore chi invece dice è è monolite ha sempre la stessa idea di calcio è innovativo io l'avrei esonerato ok ma che non rispetti i giocatori penso non lo si possa e se lukaku e se lukaku facendo riferimento a contrasti con l'allenatore si riferisce pure assieme in zaghi mi viene difficile quando andò via dall'inter contrasti con l'allenatore nella prima volta dico con chi che conte è andato via prima di lui c'era nessuno in zaghi era appena arrivato contrasti con l'allenatore che già una minchiata poi posso capire l'anno al celsi ma lì la scelta sbagliata come ho sempre raccontato è stata proprio alla radice è andato nella squadra non nel cambiare inglese perché tanti dicevano lukaku nella sua fisicità inghilterra i difensori sono come lui e quindi non emerge no no perché allo in red ha fatto bene all'everton ha fatto benissimo a west bromich ha fatto benissimo quindi non è questione di cambiare inglese è questione liberamente di tattica e il celsi è la scuola più sbagliata nel quale andare a giocare nella quale andare a giocare poi posso capire la sua voglia di ci torno l'ho tifatata piccolo eccetera eccetera scelta sbagliata sapevi che tu che ero quel tipo di allenatore lì giocava col falzone giocava verso punta lukaku poi torni all'inter ti rompi nonostante questo torni poi in grande spolvero e c'è una distinzione netta tra geko e lukaku lukaku e geko no no geko aveva delle caratteristiche che lo ponevano l'anno scorso anche per merito anche per credito secondo me un gradino sopra lukaku la gestione della finale di champions da parte di inzaghi a livello di lukaku geko geko lukaku secondo me è stata perfetta l'inter fosse andata ai supplementari lukaku avrebbe giocato molti più minuti rispetto a geko quindi era stato tutto calcolato non puoi pensare andare a affrontare il manchester city senza un piano partita o prevedendo l'eventuale supplementare che infatti era a un certo punto il risultato più prevedibile e ha inciso lukaku poi ha di fatto ha inciso più lukaku anche per per il momento in cui entrato che non geko quando la partita era in equilibrio ma era in equilibrio anche grazie al lavoro sporco di geko che magari lukaku non avrebbe fatto avrebbe fatto in maniera differente e secondo me la lettura era corretta quella di alternarli in quel momento perché facendolo entrare al quarto d'ora della ripresa geko giocava un'ora no non un'ora al quarto d'ora forse prima comunque compresi supplementari alla fine lukaku avrebbe giocato di più adesso non ricordo precisamente ma facendo i conti lukaku avrebbe giocato di più rispetto a geko ma tu che sempre professato amo l'inter non andrò mai lì lì non andrò mai lì il re di milano eccetera eccetera allora o stai o non dici nulla per carità poi ormai ci siamo abituati anche a parole che non vengono corroborate dai fatti ci può stare però quando tu ti esponi veramente perché lukaku si è esposto veramente così tanto lo fai per due volte chiaro che poi pure tenete avere ragione ma un minimo di autocritica io l'avrei fatto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti ho apprezzato quelli che hanno beccato l'ecitazione del video precedente stavolta non ne sono uscite però facciamo sta cosa l'ecitazione divertente saluto